...i vari regimi nel mondo, penso a Saddam, penso a Gheddafi, cioè tutto quello che è venuto dopo questi regimi è sicuramente ancora peggio. Ma veda, ma veda Giletti, scusi, ma anche fare il paragone con Saddam, capisce? Con Saddam tu potevi abbatterlo, potevi ucciderlo, potevi invadere uno Stato che bene o male era uno Stato sovrano, membro dell'ONU, potevi fare tutto quello che volevi contro Saddam e noi occidentali ce ne siamo ampiamente strafregrati, fin tanto che non abbiamo avuto gli effetti, cioè il terrorismo in casa, allora ci siamo messi a preoccuparci un po' degli effetti di quella sciagurata guerra di vent'anni fa. Ma con Saddam puoi fare tutto quello che vuoi, ma attenzione, con la Russia o tratti o ti metti d'accordo, come con la Cina, oppure è la terza guerra mondiale. Saddam Hussein non c'è alcun pericolo di terze guerre mondiali. Con la Russia sì, perché appunto o tratti o ti metti d'accordo tra imperi, oppure si ritiene che la Russia sia un paesetto qualsiasi, retto da un dittatore e te ne vuoi disfare, bravi, complimenti, e stiamo a vedere. Ma certamente non può essere un isolamento economico, non può essere un isolamento finanziario, non può essere un isolamento politico, perché come dico, come ho detto e ripeto, ci possono essere gli zar, ci può essere Stalin, ci può essere Khrushchev, ma c'è la Russia, la Russia e se non ci ficchiamo in testa che la Russia non è uno staterello, non è un paese, non è la repubblica delle banane, non è la disposizione dei nostri desideri, è la Russia, che ci sia Putin, che ci sia Gorbaciov, che ci sia Stalin, che ci siano gli zar, è la Russia. Se non ci rendiamo conto di questo e non affrontiamo con questa profondità storica e culturale il problema, non capiremo nulla e quindi non riusciremo neanche a condurre il nostro conflitto che può esserci con la Russia secondo modalità ragionevoli. Cosa vuole che isolino la Russia? La Cina? Ma lì la Cina e la Russia formano l'Asia, di cui l'Europa è l'appendice, di cui l'Europa è la penisola. Guardate la carta geografica, guardate la Russia e la Cina, più metti cilindri, cioè tre quarti della popolazione mondiale. E quindi è quello che pensavo, ma anche il fatto poi... E quindi l'isolamento non può esistere, l'isolamento non può esistere, non può esistere politicamente. Dopodiché le sanzioni secondo me sono giuste. L'idea è evidente che tu hai un paese che aggredisce e cerchi appunto di costringerlo alla ragione. E quindi tutto va bene, anche dare le armi arrivo, va bene. Ma se questo fa parte di una strategia che mira l'accordo, che mira a trattare, a trattare, non a proseguire la guerra all'infinito. Cosa vuol dire? Su questi piani qua politici vuol dire questo, ma che lo sa Draghi meglio e prima di me. È evidente, l'Italia oggi, l'Italia attuale, che ci sia Draghi o che ci sia chi volete, l'Italia attuale sul piano della politica estera potrebbe contare l'Europa, ma l'Europa non ha né politica di sicurezza né politica estera a comune, di fatto, tanto meno di sicurezza, quindi militare. L'Italia, quando vuole che conti, su queste questioni, Draghi potrà contare come personalità nel mondo economico, nel mondo finanziario, ma quando vuole che conti nella politica estera. Anche fosse il padre eterno, non è mica una critica a Draghi che faccio, è la collocazione oggettiva dell'Italia. L'Italia contava in politica estera quando passava lì, per l'Italia, per la nostra penisoletta, passava il confronto fondamentale della guerra fredda.